Musica Salve a tutti ragazzi io sono Ovo con il video del benvenuto in un nuovo video sul mio canale Oggi siamo in un nuovo video di Takon Titan la terza stagione e come potete vedere non stiamo facendo un altro video reaction Perché? Perché non si potranno più fare semplicemente li hanno bloccati ok? Questa cosa mi dà un po' fastidio perché io creavo un video su un altro contenuto Si come una persona magari fa un gameplay su un gioco che è un altro contenuto io creavo qualcosa di diverso Ma siccome che alla gente non va mai bene nel senso alla gente alle case produttrici allora bisogna adeguarci E io siccome che sono un italiano mi lamento ma non faccio niente Non è proprio giusto non faccio niente ma creo un'altra cosa perché si va bene così Ed ecco ho spiegato a voi perché non ci saranno altre reaction di AOT ragazzi lo so vi dispiace Lo so dispiace di più anche a me Tuttavia ritornano i vecchi format delle recensioni sui capitoli e lo facciamo in live giocando appunto a Takon Titan 2 La puntata è stata anche interessante devo dire anche se onestamente è successo pochissimo Dove l'ho vista? L'ho vista sempre su Vivid ragazzi ovviamente solo lì si può vedere E l'ho vista tra l'altro con alcuni miei iscritti sul server di Discord Abbiamo fatto una condivisione schermo dove uno metteva e ostava diciamo lo schermo La condivisione schermo e la puntata di conseguenza mentre gli altri la guardavano tutti tramite lui Quindi una chiamata in quattro persone dove uno guardava cioè uno streamava e gli altri la tenevano su E' stato interessante perché era come commentare praticamente in quattro la puntata Figo figo Mi dispiace solamente non riuscire a portarvi un video su questo contenuto Perché purtroppo sappiamo che YouTube non favorisce questa cosa Cioè te la blocca onestamente quindi non ne vale manco la pena di farla Il problema è che come detto Comunque tutto sommato la puntata è stata Cioè non è che siano successe tante cose Perché era giustamente il continuo della scorsa dove appunto c'era Rod Reis Che dopo aver assimilato il midollo spinale appunto che avrebbe dovuto dare a sua figlia Istoria Si è trasformato in questa sorte di titano titanico Che onestamente mi ha fatto un po' ridere il fatto che abbia tirato questo trendsetter tipo l'anno scorso Perché non è che ci sia un vero e proprio nome su questo titano Io l'ho sempre chiamato titano titanico ma di base non c'è un riferimento Perché lui è il titano più alto di tutti Rod Reis in questa versione essendo un titano puro Immaginatevelo se avesse assimilato anche la coordinata Cioè un titano di 120 metri Capito? Qualcosa di... cioè fuori da ogni logica Di base questo titano cosa fa? Esce dalla... dalla cosa no? Esce dalla grotta insomma quella famosa La grotta della successione Tanto non riesco a capire perché non riesco a eliminare questo titano Ok adesso dovremmo riuscire a beccarlo bene Perfetto E praticamente esce e si dirige verso la città più vicina E ovviamente i nostri... i nostri diciamo protagonisti tra cui anche Eren Ovviamente si decide che non è così inutile come ovviamente lo è di base Ma anche se ragazzi è inutile Eren È inutile Però in questa versione qui cosa succede? Una cosa importante di questa puntata è il fatto che lui assimila Una boccetta chiamata Corazza In questa boccetta che praticamente era dentro la... diciamo la valigetta La 24 ore così vogliamo chiamarla di Road Race insieme alla siringa C'era questa boccetta come appunto il discorso della Corazza Che altro non è che proprio l'indurimento che ricercava appunto con la squadra Levi Il nostro Eren per riuscire in qualche modo a chiudere le mura Quindi assimilando questa boccetta cosa ha fatto? Ha assimilato un po' del potere della Corazza E infatti gli ha permesso tra virgolette di riuscire in qualche modo a salvare i suoi amici E limitandone ovviamente che venissero eliminati dalla trasformazione di Road Race Perché immaginatevi un titano di 120 metri Quindi circa il doppio... anzi no no togli il circa Il doppio del titano colossale che ovviamente si staglia su una grotta Cioè fa un casino della madonna Quindi per fortuna che Eren in quel frangente è riuscito a esercitare questo potere Questa chiusura no? Questa sua corazza per impedire insomma che i suoi amici morissero Questo è stato uno dei punti più interessanti diciamo Perché alla fine non è che sia successa tanta roba Infatti dopo che ovviamente il titano titanico quindi Road Race è uscito allo scoperto E si è direzzo verso la città che vedremo nella puntata prossima I nostri amici della 104 e della squadra Levi insomma anche con il comandante Erwin Perché nel frattempo li ha raggiunti pure lui con altri soldati Si sono un attimino... cioè hanno visto questo titano e hanno detto Beh non si può attaccare questo titano è troppo grosso perché in quella vece Road Race non può essere avvicinato Perché tutto quello che sta nelle sue vicinanze prende fuoco Visto che il titano è talmente grosso ok? Da emanare talmente tanto calore da bruciare gli alberi Quindi immaginatevi che potenza deve avere quel titano Qualcosa di esorbitante E per fortuna che ovviamente i nostri amici temporeggiano perché non possono fargli niente Nella prossima puntata essendo arrivati comunque anche nella cittadina insomma quella lì vicino Prima del titano appunto titanico perché lui cosa fa il titano titanico essendo così grande Non può tenersi in piedi perché le sue gambe sono talmente piccole Ok? E sproporzionate che il suo corpo il suo torso non riesce a tenerlo su Quindi lui striscia Striscia perché non è troppo debole capisci? È troppo debole e cosa sto facendo? Vabbè comunque il discorso è che striscia E di per sé ha tutta la pancia e tutta la faccia distrutte Ha pazzesca sta cosa no? Quindi essendo anche molto lento strisciando cosa fa? I nostri amici hanno tutto il tempo come vi ho detto di andare in questa cittadina E preparare un attacco una sortina no? Da fagli Che vedremo nella puntata prossima Allora io sono abbastanza contento di come sta andando avanti la serie no? Di autì Di base è molto molto figa Mi sta piacendo Ha un suo perché Un tipo di narrazione che condivido Perché comunque è interessante Figo comunque essere il titano corazzato in mezzo alle città Così alla città in mezzo ai palazzoni così Di base nella prossima puntata probabilmente vedremo lo scontro Uno degli scontri più attesi no? Di questa terza stagione Quindi il mondo versus rod race Sono curioso di vedere come lo rendono Come lo renderanno anzi Tra l'altro se qualcuno di voi vorrà vedere questa puntata con me Lo guarderemo magari in call su discord Vedremo Vedremo se qualcuno si vorrà unire Vabbè In ogni caso questo titano non so se catturarlo Quasi quasi lo catturo Si 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 Poi andiamo a concludere la missione Di base si Comunque voi cosa ne pensate? Cioè vi sta piacendo la serie? A me onestamente si Sta veramente piacendo moltissimo Tra l'altro si uscirà il seguito di questo gioco ragazzi Quindi outt3 che sarà basato ovviamente sulla terza stagione che stiamo guardando adesso Il gameplay potrebbe essere diverso perché ci saranno da combattere anche gli umani La squadra soppressione anti uomo no? Come abbiamo visto Quindi eh sono curioso di vedere come lo introdurranno Perché il nostro amico obo gul che abbiamo fatto la serie sul canale Se l'altro sono questo Sono lui Lo sta impersonando adesso Voglio vedere come riuscirà a eliminare tanti soldati Figa figa Catturalo Ok Dovrebbe essere nostro Si preso Bene bene Eliminato anomalo Abbiamo finito la missione? Non lo so mi pare di no Oppure si Eh l'abbiamo finita Quindi di base onestamente questa puntata Come vi ho detto è stata anche diciamo Non è che era molto profonda Non c'erano come vi ho detto tanti eventi Ovviamente su cui parlare Su cui crearci dei dialoghi eccetera Perché di base sono successe poche robe Poche ma buone Una puntata molto densa di azione Quindi diciamo che i discorsi li vedremo più avanti Anche la prossima mi aspetto che sia così Quindi pochi ragionamenti e tante botte Come piace tra l'altro anche a noi Detto questo comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale E ovviamente attivare la campanellina Perché purtroppo ragazzi Youtube sappiamo che dà problemi con i feed eccetera Quindi se vi piacciono comunque anche altri contenuti Vi ripeto guardate anche tutto il resto Perché ovviamente il mio canale non è solo AOT Ripeto riflette tante altre passioni Che sono appunto anime, videogiochi e manga Quindi mi raccomando Troverete tantissime cose anche per varietà Da qui a Bugle è tutto E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao a tutti i bolidi